Allora, buongiorno! Buongiorno, anzi, buon pomeriggio! Chi sei tu? Maria Iluma Icove E da dove vieni? Vengo dal Camerun, però abito a Perugia da quando ho tre anni Di qualcosa in Donca? Eh, è stata in Vod, ti bastò Senti, ma dove siamo? Sì, ma bastia E su che cosa sei seduta? La macchina del corino Anzi, del porco Lo vuoi fare un saluto a Perugia? Ciao freghi, ciao freghe Grazie E niente Ti faccio solo una domanda, giusto per la legge Che giorno è oggi? Oggi è il 3 ottobre Di che anno? 2014 Sei maggiorenne? Ebbè Possiamo utilizzare le immagini che sto riprendendo adesso? Ebbè, mi chiedi? Di sì? Sì Ok, grazie Maria Ciao Ebbè, grazie a tutti